E qui vicino a me c'è il grande responsabile direttore del settore giovanile, Sabi Mainorti. Io voglio fare un auguro di Buon Natale a tutti i calciatori e ai tifosi, e soprattutto ai tifosi e la cittadinanza stabile che sta seguendo con grandi interessi questo settore. Buon Natale a voi e in famiglia, che possa l'anno nuovo portarci più serenità, più tranquillità e più benessere rispetto a quest'anno. Grazie e Buon Natale a tutti.